Difendere il paesaggio per trasformarlo in risorsa economica. Il seminario organizzato dall'Istituto Alberghiero di Praia a Mare con il patrocino dell'amministrazione comunale ha visto la partecipazione autorevole di Maglène de Champot, capodivisione del patrimonio culturale, paesaggio e gestione del Consiglio d'Europa che si batte da tempo per la salvaguardia del territorio. Un territorio con le sue specificità e le sue tradizioni che ne rappresentano la ricchezza, un patrimonio di cui l'Italia dispone e che può essere il vero, forse l'unico volano di sviluppo. Io penso effettivamente che l'Italia per una gran parte del mondo rappresenta un mito in relazione alla cultura, al patrimonio, alla gastronomia e queste risorse dell'Italia vanno valorizzate. Io che lavoro sul paesaggio ho molto apprezzato tutto quello che si vede qui perché è una sintesi di quello che noi facciamo con l'applicazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, che prende in considerazione non solo i paesaggi belli, ma anche quelli degradati per migliorarli nell'interesse del benessere delle popolazioni. Uno sguardo d'insieme anche per gli studenti che devono guardare oltre le tecniche e le nozioni pratiche della cucina, ma viverla in un più ampio sentire culturale che renda la produzione gastronomica testimonianza della storia delle popolazioni e dei territori. Oggi possiamo dire che è sempre più diffusa la consapevolezza che il cibo e cultura. Il cibo e cultura perché indaga la ricchezza della cucina del Mediterraneo. Io penso che sia un ritorno alle tradizioni locali e attraverso la riscoperta di queste tradizioni locali si può rilanciare il territorio, si può rilanciare il turismo. E quindi questo secondo me è una carta vigente insomma oggi. Parlare di paesaggio significa riconoscere anche questa dimensione interiore che è il paesaggio, quindi il modo in cui viene percepito, la percezione del paesaggio quindi in cui viene percepito dalle persone in maniera abbastanza soggettiva anche, quindi legato ai ricordi e alle emozioni che suscitano determinati luoghi. E quindi questo ci porta ad un'attenzione maggiore per quanto riguarda la conservazione. Un patrimonio che purtroppo non sempre è visibile agli occhi e che piuttosto che essere valorizzato viene distrutto nonostante l'esistenza di specifiche norme in materia. La prima cosa quando parliamo di paesaggio è in riferimento alla condizione di salute delle popolazioni e in questa direzione la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione Europea del Paesaggio hanno elaborato un quadro normativo che deve impedire questo ma che spesso non è rispettato. Grazie per la qualità dei miei. Grazie. Grazie.